E lasciamo il carnevale, ci occupiamo dei più piccoli di casa nostra. In cinque anni i bambini autoctoni iscritti alle scuole materne sono calati di 14 unità, mentre sono aumentati di 686 unità quelli appartenenti alle famiglie straniere. Vediamo. I bambini iscritti nelle 333 scuole per l'infanzia dell'Alto Adige sono 15.606, 471 in più rispetto all'anno scolastico 2007-2008. L'incremento di bambini locali è pari a 283 unità, quello riferito alle famiglie straniere è di più 188 unità. Secondo uno studio dell'ASTAT, l'Istituto Provinciale di Statistica, rispetto a cinque anni fa il numero dei bambini autoctoni iscritti è calato di 14 unità, mentre è aumentato di ben 686 unità quello dei bambini stranieri. Il 72,5% del totale frequenta una scuola dell'infanzia in lingua tedesca, il 23,1% quella in lingua italiana e il 4,4% una nelle località ladine. Gli insegnanti nelle scuole d'infanzia sono 1090, 991 invece i collaboratori pedagogici o assistenti. A ogni insegnante vengono assegnati una media di 14 bambini. I bambini stranieri iscritti nelle scuole dell'infanzia alta tesina sono 1387, vale a dire 8,9 ogni 100 iscritti. Il paese europeo più rappresentato è l'Albania, seguito da Macedonia e Serbia. I paesi extraeuropei più rappresentati sono nell'ordine Marocco, Pakistan e Tunisia. Nelle scuole italiane si registrano 19,3 bambini stranieri ogni 100 alunni, in quelle in lingua tedesca gli stranieri sono 5,8 ogni 100, in quelle ladine 5,1 ogni 100 alunni.